Mi sono piaciuti i giochi interattivi che abbiamo fatto e ho scoperto più o meno le professioni, l'età. Il gioco dove bisogna abbinare la data agli eventi proposti. Mi è piaciuta tanto la prima attività interattiva dove si vedevano le varie percentuali dei consumi, l'automobile, la lavatrice, quant'acqua consumiamo. Sono green all'85%. Un 61%. Un 66%. I bimbi si divertivano a scoprire la professione di statistico e cose di questo genere. Ve l'ho detto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. E che cos'è un censimento? Vieni con me e lo scoprirai. Mi è divertito quello di prendere l'altezza e poi segnare. Avevo difficoltà a trovare un posto dove poter segnare la mia altezza, quindi è evidentemente un'altezza molto comune. Ci permette di percepire la realtà del nostro paese. Grazie.